Lezione 23 del mio corso di astronomia. In questa lezione parleremo delle comete. Vedremo le comete nel Sistema Solare, le loro provenienze che sono la nube di Hort e la fascia di Kuiper. Vedremo in dettaglio la cometa di Halley che è stata la prima ad essere avvicinata da una sonda spaziale. Poi parleremo delle esocomete, ovvero comete che provengono da altri sistemi stellari, perché molto probabilmente i vari sistemi stellari si scambiano comete. Poi abbiamo anatomia e chimica delle comete, quindi vedremo come sono fatte e di che cosa sono fatte. E poi vedremo le differenze delle loro orbite, perché ci sono comete di lungo e di breve periodo. Ancora, vedremo in particolare le loro cote, come si formano e come sono fatte. Poi parleremo del destino delle comete, in che modo le comete possono terminare la loro esistenza. Ad esempio cadere sul Sole, perdersi nello spazio interstellare o colpire i pianeti. Vedremo quali sono le comete che hanno lasciato più tracce nella storia umana e poi ovviamente lo studio e l'esplorazione attuale delle comete anche con le missioni spaziali. Cominciamo. Dove sono le comete? Oltre l'orbita di Nettuno comincia un regno di corpi ghiacciati dove il calore non arriva e i materiali volatili riescono a formare oggetti solidi. I più grandi sono costituiti da pianeti nani, che abbiamo già visto in una delle lezioni precedenti, e hanno la caratteristica di essere grandi e differenziati, ovvero con un nucleo, un mantello e una crosta e addirittura con attività geologica in superficie. Ma comunque questi oggetti non riescono a superare i mille chilometri in diametro. I più piccoli invece sono corpi ghiacciati di ammoniaca, acqua, azoto e composti organici mescolati a roccia, che essendo più piccoli hanno orbite meno stabili e quando si avvicinano al Sole cominciano a evaporare emettendo una grande e stessa chioma e una lunga coda che riflettendo la luce del Sole diventano molto luminosi e dalla Terra si possono vedere in modo spettacolare. Questa è la fascia di Kuiper che ha un'estensione che va tra i 20 e le 50 unità astronomiche, ma come vedremo non è l'unico serbatoio di comete del Sistema Solare. Come sono le comete nel Sistema Solare? Si stima che nel Sistema Solare possano esserci centinaia di migliaia di milioni di comete, oggetti celesti di roccia e ghiaccio, che poi per ghiaccio intendo non solamente ghiaccio di acqua, ma anche di altri volatili come ammoniaca, azoto e composti organici, che orbitano intorno al Sole a grandi distanze. Si conoscono fin dall'antichità e si manifestano quando le loro orbite le portano vicino al Sole. Questa è un'immagine ravvicinata della cometa di Halley, che è stata la prima cometa ad essere stata avvicinata da una sonda spaziale, la sonda Giotto, e si può vedere, anche se un po' sfocato, in nucleo esteso almeno 11 km, con i suoi getti di gas causati dal surriscaldamento del Sole. Le comete sono tra i corpi più distanti del Sistema Solare, hanno diametri variabili, ma sempre molto piccoli, sono sicuramente gli oggetti più piccoli del Sistema Solare, come già detto nella foto che vediamo la cometa di Halley, larga appena 11 km, e quando questi corpi si avvicinano al Sole subiscono fenomeni di sublimazione, ovvero quando la materia solida diventa gassosa senza passare per la fase liquida, generando una chioma, ovvero una gigantesca nube di gas, e una relativa coda che, riflettendo la luce del Sole, possono apparire molto luminosi dalla Terra. Queste chiome e queste code possono essere fatte sia di gas ionizzato che di polvere, ma il segreto della loro luminosità è il fatto che riflettono molto bene la luce del Sole. Nella storia sono state osservate molte comete, in epoche in cui non esisteva l'inquinamento luminoso, alcune apparivano veramente luminose nel cielo, e quindi hanno lasciato una traccia nella documentazione storica dell'epoca. Tant'è vero che in molte religioni, in molte culture, in molte rappresentazioni artistiche, troviamo queste comete disegnate nei cieli. A volte venivano viste come un segnale divino di un cattivo auspicio, e quindi spesso la gente ne aveva paura. Forse perché alcune di queste comete avvenivano in concomitanza di guerre o di carestie, anche se all'epoca questi eventi erano molto frequenti. A volte la tendenza umana a cercare una causa nelle disgrazie trovava nelle comete dei capi aspiratori abbastanza buoni. Andando avanti però, vediamo di che cosa sono fatte queste comete. Queste comete si sono formate dalla nube da cui si è generato il Sistema Solare, però sono costituite da materiali volatili, quindi devono essersi formate lontano dal Sole, perché all'inizio della storia del Sistema Solare, il Sole con la sua radiazione ha spazzato via i volatili lontano nel Sistema Solare esterno. Lì questi volatili hanno trovato le temperature giuste per condensarsi allo stato solido e formare questi oggetti. I volatili che sono sopravvissuti alla formazione dei pianeti si sono condensati in oggetti più piccoli, che ancora oggi abbondano nelle zone più esterne del Sistema Solare, perché la debole gravità del Sole in quelle aree limita l'interazione dei vari oggetti. Questi oggetti orbitano lentamente intorno al Sole e in quel caso non interagendo tra loro non si sono fusi. Infatti i pianeti si formavano perché quando gli oggetti piccoli ruotano velocemente intorno al Sole è molto facile che possano interagire colpendosi o scontrandosi, fondendosi insieme e formando oggetti più grandi. Se invece gli oggetti orbitano lentamente la loro interazione è minima e quindi rimangono frammentati e separati, quindi la velocità di rotazione intorno al Sole è uno dei fattori principali che aiuta i pianeti a crescere e a formarsi. E per questo oggi abbiamo delle vaste aree nella parte esterna del Sistema Solare con miliardi di questi oggetti minori che sono rimasti separati e ghiacciati a orbitare intorno al Sole e possiamo distinguere questo in due grandi regioni che sono a loro volta le principali riserve di comete da cui derivano quelle che vediamo noi e i nostri antenati da millenni dalla Terra. Abbiamo ad esempio la cintura di Kuiper che vediamo appena oltre l'orbita di Nettuno e che di fatto è una conseguenza dell'orbita di Nettuno ovvero l'interazione gravitazionale tra Nettuno e gli oggetti più esterni del Sistema Solare hanno creato questa nube di Kuiper che si trova in risonanza orbitale proprio con questo gigante ghiacciato. Tant'è vero che all'interno troviamo Plutone che è uno degli oggetti più importanti di questa fascia e da esso prendono in nome i Plutini che sono tutti quegli oggetti che si trovano in risonanza 2.3 con l'orbita di Nettuno quindi sono oggetti che hanno trovato un equilibrio gravitazionale con il pianeta gigante più esterno del Sistema Solare. Questa fascia di Kuiper va tra le 30 e le 50 unità astronomiche e contiene tutti i pianeti nani ghiacciati scoperti fino adesso quindi Eris, Sedna, Makemake e gli altri pianeti minori però nessuno esclude che ce ne possano essere altri anche nelle regioni più lontane. Poi abbiamo la nube di Hort che avvolge tutto il Sistema Solare quindi non si è strutturato a formare un disco e rappresenta ciò che rimane della nube che originalmente doveva essere sicuramente di forma sferica che collassando in forma di disco poi ha dato origine al Sistema Solare quindi la nube di Hort ci dà un indizio sull'antica nube che ha generato il Sistema Solare. Questa va dalle 50.000 alle 200.000 unità astronomiche quindi addirittura può arrivare anche a due anni luce dal Sole anche se le recenti stime forse la limitano a un anno luce però in realtà non è stato ancora trovato un vero e proprio limite probabilmente questa nube si fonde con le nubi di Hort degli altri sistemi solari delle stelle più vicine anche perché come vedremo spesso le comete possono cambiare sistema e le stelle possono letteralmente scambiarsi le comete. Nella cintura di Kuiper e sicuramente anche nelle nubi di Hort troviamo i pianeti nani che sono questi oggetti più grandi delle comete possono arrivare anche fino a 1000 km che però sono più simili a un pianeta perché hanno una struttura differenziata interna ovvero un nucleo, un mantello e una crosta differenziati per strutture e composizione chimica e a volte anche delle attività geologiche e superficiali come il criovulcanismo ovvero un vulcanismo non di rocce fuse ma di fluidi ghiacciati che emergono in superficie. Ne abbiamo già parlato ampiamente nelle lezioni precedenti. La nube di Hort prende il suo nome dallo scienziato che l'ha ipotizzata che era Jean Hort infatti questo signore nel 1950 ha ipotizzato questa gigantesca nube avvolgere il sistema solare dalla composizione chimica delle comete perché essendo costituite da materiali che vicino al sole sarebbero volatili immagina dovessero venire da zone lontane dal sole e quindi ha immaginato questo grande serbatoio di comete poi l'ha immaginato sferico quindi avvolgere il sistema solare perché le comete di lungo periodo ovvero quelle che vengono appunto da molto lontano non avevano le orbite che giacevano sul piano del sistema solare ma provenivano da tutte le direzioni quindi sicuramente questo tra virgolette serbatoio di comete doveva avvolgere il sistema solare e quindi ha immaginato questa gigantesca nube a forma sferica avvolgere il sistema solare una teoria che ancora oggi è ben confermata soprattutto dalle osservazioni degli altri sistemi solari in formazione qui vediamo a sinistra la stella HD 1691-42 e a destra la AS209 che sono due sistemi stellari in formazione entrambe queste fotografie mostrano dei dischi o delle sfere di gas che circondano il sistema in formazione che potrebbero rappresentare le future nubi di orte quindi i futuri serbatoio di cometi di questi sistemi planetari in formazione quindi abbiamo anche oggi la prova fotografica che quando si forma un sistema planetario come il nostro sistema solare si forma anche una struttura a forma sferica che l'avvolge sicuramente costituita da materiali volatili che a quelle distanze della stella vanno a costituire oggetti piccoli e soliti appunto come le comete quindi la teoria di questo signore è stata poi confermata dalle osservazioni di altri sistemi planetari come è fatta quindi questa nube? abbiamo all'interno il sistema solare e la fascia di Kuiper e poi molto estesa questa struttura sferica appunto nuve di orte che può arrivare anche a due anni luce dal sole all'interno di questa struttura oltre ai pianeti nani che abbiamo già scoperto nella fascia di Kuiper potrebbero esserci altri pianeti nani che orbitano in tutte le direzioni all'interno di questa nube ma non è detto perché la velocità di rotazione è molto lenta e quindi l'interazione tra i getti è molto piccola i pianeti nani sono oggetti che hanno iniziato il processo di formazione planetaria ma che poi non l'hanno completato appieno quindi sono dei pianeti interrotti durante il processo di formazione i Plutini in particolare danno il nome a tutti quei corpi che nella fascia di Kuiper sono in risonanza 2 e 3 con Nettuno all'interno troviamo Plutone ma anche altri pianeti nani con dimensioni non superiori ai 1000 km di diametro circa un quarto degli oggetti della fascia di Kuiper sembra avere queste caratteristiche orbitali ovvero una risonanza 2 e 3 con l'orbita di Nettuno ovvero ogni volta che Nettuno compie 3 orbite intorno al Sole questi Plutini ne completano 2 quindi sono in equilibrio orbitale perfetto la fascia di Kuiper ha una forma piatta quindi è organizzata all'interno del piano del sistema solare e all'interno ci sono tutti i pianeti nani noti che sono Eris, Oemma, Mechmeich ma anche Sedna Plutone appunto e tanti altri ancora potrebbero essere addirittura fino a un migliaio di oggetti più importanti quindi non sono ancora stati scoperti tutti quanti ma sono comunque centinaia di migliaia di oggetti in orbita intorno al Sole addirittura, secondo alcuni scienziati lo stesso Tritone potrebbe essere un pianeta nano che è stato catturato da Nettuno e che ora è un suo satellite questo sospetto deriva dal fatto che Tritone orbita in senso opposto rispetto a tutti gli altri satelliti di Nettuno e quindi è un oggetto catturato e visto che ha caratteristiche simili a quelle di un pianeta nano quindi ovviamente un oggetto costituito per lo più da volate di ghiacciati si pensa che quando Nettuno all'inizio della storia del sistema solare si è tuffato nella fascia di cui per le comitate gravitazionali con gli altri giganti cassosi ha non solo scatenato un intenso bombardamento addirittura scagliando molti oggetti verso l'interno del sistema solare Terra compresa ma oltre a generare l'equilibrio gravitazionale con i Plutini con la risonanza 2 e 3 con le loro orbite si è anche preso un pianeta nano come satellite e quindi oggi Tritone sembra essere un pianeta nano catturato dalla forza gravitazionale di Nettuno a diventare una delle sue lune ancora la struttura di raccordo tra la fascia di Kuiper e la nube di Orte si chiama disco diffuso ed è questa fascia di raccordo va dalla fascia di Kuiper quindi da 50 unità astronomiche fino all'inizio della nube di Orte che secondo alcuni è 100 unità astronomiche poi vi ricordo che secondo le stime più pessimistiche la nube di Orte arriva fino a 100.000 unità astronomiche quindi la distanza di limite di questo disco diffuso è un centesimo poi dello spessore totale della nube di Orte quindi la nube di Orte è un oggetto molto grande come già detto secondo le ultime stime dovrebbe arrivare fino a un anno luce dal sole ma secondo altre fino anche a due anni luce gli oggetti nella fascia di Kuiper hanno un'orbita molto elittica il più conosciuto tra questi è pianeta Eris e l'abbiamo già detto da qui derivano tutte le comete che passano vicino alla Terra quelle di breve periodo derivano dalla fascia di Kuiper quelle di lungo periodo quindi con periodi anche di milioni di anni derivano invece dalla nube di Orte la grande differenza è che le prime hanno orbite allineate sul piano del sistema solare quindi con le orbite di altri pianeti le seconde invece hanno orbite che derivano da tutte le direzioni anche perpendicolarmente rispetto al piano dei pianeti perché si è formata questa fascia? dobbiamo risalire all'origine del sistema solare comete e asteroidi sono come delle capsule del tempo che ci danno informazioni sulla nascita del sistema solare perché rimasti invariati dalla sua formazione avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa qui vediamo una foto di un sistema solare in formazione con il disco protoplanetario sorcato da dei dischi neri questi dischi neri sono dei vuoti scavati da dei pianeti in formazione ovvero i pianeti formandosi intorno al Sole stanno ripulendo la loro orbita generando questi dischi vuoti e qui vediamo una simulazione al computer che mostra come un disco protoplanetario si struttura in anelli separati e i vari spazi vuoti sono scavati da pianeti che in formazione stanno attirando materiale e quindi ripulendo la loro orbita nelle zone più esterne di questo disco la velocità di rotazione è molto più lenta perché la gravità è molto debole più è debole la gravità della stella e più si può rimanere in orbita orbitando lentamente con questa lentezza l'interazione degli oggetti in orbita è molto minore e quindi non si fondono insieme e non si formano grandi oggetti quindi non si formano pianeti gli oggetti rimangono piccoli e frammentati in milioni e miliardi e così fino alla fine del processo di formazione del sistema planetario secondo questa simulazione la nuove di Hort e la fascia di Kuiper sono ciò che rimane del processo di formazione del nostro sistema solare la composizione chimica di comete e asteroidi sono indicativi della nube originaria di cui si è formato il sistema solare la stessa stratificazione e distribuzione della composizione chimica dei corpi minori riflettono anche la stratificazione della nube quindi comete con periodo più lungo quindi che derivano da regioni più lontane hanno una composizione chimica di volatili più leggeri di quelle che invece derivano da regioni più vicine qui vediamo ancora un'immagine una fotografia questa è la struttura spirale rivelata nel disco di polveri della stella SAO 2064-62 e si vede in confronto la dimensione dell'orbita di Plutone che è paragonabile alla dimensione del disco che avvolge la stella la stella è stata artigianalmente oscurata a 100 per poter raccogliere il massimo della luminosità del disco perché ovviamente la stella è milioni di volte più luminosa del disco e qui addirittura si vede che il disco orbitando intorno alla stella la forma dei bracci perché ci sono delle onde di densità che si addensano in alcuni punti e si diradano in altri mostrando quindi fenomeni di vorticosità all'interno di questa rotazione del disco quindi vedete che oggi abbiamo numerose prove scientifiche indirette quindi di altre stelle di come si è formata la nube di orte intorno alla nostra stella costruita presentamente dalle zone più esterne della nube da cui si originano i sistemi solari delle stelle che ovviamente orbitando più lentamente non hanno l'energia sufficiente a costituire oggetti molto grandi e quando il loro materiale si condensano in oggetti solidi questi rimangono piccoli e frammentati in miliardi di oggetti minori che saranno poi appunto le comete future di questo sistema planetario oggi addirittura le sonde sono atterrate sulle comete e oggi abbiamo delle spettacolari immagini ravvicinate della superficie di questi oggetti ed eccole qui, le vediamo in queste foto questa in particolare è la superficie della cometa 67P che prende in nome dagli astronomi che l'hanno scoperta il suo nome completo infatti è 67P Churymove Gerasimenko e il panorama è veramente spettacolare qui addirittura in alta definizione ovviamente la foto è stata elaborata in modo che la luminosità sia sovraesposta perché in realtà la luce sarebbe molto più bassa di quella che appare nelle foto quindi sono sovraesposte queste immagini però ci mostra un mondo molto rugoso quindi vedete questa superficie molto accidentata ovviamente non c'è una superficie sferica ma delle forme molto articolate e si può vedere che non è proprio una distesa bianca di neve come uno può immaginare un oggetto ghiacciato ma è una sorta di ghiaccio sporco costituito da un misto di roccia e vari componenti ghiacciati quindi non solamente acqua che gli danno questa configurazione scura infatti la superficie delle comete nonostante siano oggetti ghiacciati è molto scura perché lo possiamo definire come una sorta di ghiaccio sporco e che quindi riflettono poca luce vediamo ora gli sciami meteorici le comete che passano vicino al sole lasciano lungo il loro tragitto numerosi frammenti di polvere o di oggetti un po' più grandi questi oggetti, questi frammenti di comete rimangono in orbita intorno al sole e intersecano le orbite dei pianeti quindi quando la Terra entra in rotta di collisione con le scie delle comete questi oggetti impattano la nostra atmosfera creando un fenomeno astronomico molto affascinante che è quello delle stelle cadenti quindi gli eventi che vediamo d'estate ma anche d'inverno con queste notte ricche di stelle cadenti sono le scie di condensazione o anche le scie di polvere lasciate dalle comete lungo il tragitto che intersegano l'orbita del nostro pianeta come abbiamo già visto nella lezione precedente come vedremo anche in questa lezione diverse comete lasciano diverse scie e noi ogni anno abbiamo dei periodi particolari che vedono un'elevata incidenza di questi eventi per esempio le Perseidi sono uno sciame meteorico generato dai resti della cometa 109p Swift-Tuttle che ha un periodo di 133 anni queste stelle cadenti vengono chiamate Perseidi perché apparentemente sembrano provenire dalla costellazione di Perseo in realtà è semplicemente un effetto ottico perché la Terra si muove verso quella direzione mentre questi oggetti ci vengono addosso e qui vediamo come in realtà questa scia interseca ben due volte l'orbita terrestre e quindi abbiamo un evento sia ad agosto che poi verso la fine dell'anno ovviamente l'evento di agosto è più noto perché essendo più caldo si vive di più le notte estive e quindi spesso è più osservabile e popolare ma anche in inverno abbiamo lo stesso fenomeno qui vediamo alcuni esempi vedete che sono tantissimi gli eventi che colpiscono il nostro pianeta abbiamo i quadranti a gennaio che sono oggetti generati da un asteroide 2003 e H11 poi abbiamo le liridi che avvengono ad aprile che avvengono invece dall'oggetto C1861G e così via senza leggere tutti abbiamo già visto le Perseidi le orionidi invece sono dovute alla coda di Allie che invece avviene ad ottobre poi abbiamo altri eventi più famosi come le Leonidi e le Gemidi come vedete tutti questi eventi prendono il nome dalla costellazione da cui apparentemente sembrano provenire ma è sempre solo un effetto ottico perché in realtà è la direzione verso la quale si sta muovendo la Terra durante l'attraversamento di questi oggetti nella nostra atmosfera questi sciami non sono tutti uguali cambiano da cometa a cometa da cui sono generati ma anche da anno ad anno alcuni hanno stelle cadenti più luminose e grandi altri un po' meno le Perseidi e le Leonidi come ho già anticipato prima sono gli eventi più famosi perché più luminose molto numerose ma anche perché si manifestano i momenti climatici favorevoli per la visione notturna come ad esempio le notti estive molto importante parlare del caso della cometa di Halley cometa molto famosa fin dall'antichità di breve periodo circa 75 anni ben visibile ad occhio nudo quando passa vicino alla Terra però nonostante si conoscesse già da diversi secoli o millenni è stato pochi secoli fa che l'astronomo britannico Halley ne riconobbe la periodicità e le ha dato il nome il caso più famoso è la sua comparsa prima della battaglia di Husting nel 1066 re Harold II lo considerava un cattivo presagio e subì ferite mortali durante la battaglia la cometa di Halley rappresenta anche un trionfo della scienza infatti come già ho appena accennato utilizzando le leggi del moto di Keplero Handmund Halley che era questo astronomo britannico predisse che la cometa apparsa nel 1682 sarebbe riapparsa nel 1759 Halley morì nel 1743 ma quando la cometa fece la sua comparsa prevista le fu dato il nome di Halley proprio in onore dell'astronomo che ne aveva predetto la periodicità appunto di 75 anni poi nel 1986 la cometa passò di nuovo vicino alla Terra e questa volta fu visitata da questa sonda la sonda Giotto che ci diede queste immagini spettacolari è stata la prima cometa nella storia ad essere avvicinata da una macchina umana da una sonda terrestre umana ed è stata anche la prima cometa che ci ha permesso di vedere in dettaglio il suo nucleo largo circa 11 km mentre emetteva i jet di gas che di fatto generavano la chioma e poi la coda della cometa qui vediamo una foto del 1986 questa è la sua orbita un'orbita di breve periodo perché supera a malapena l'orbita di Nettuno quindi si trova all'interno del sistema solare esterno e la cometa descrive un'orbita molto ellittica che la porta dall'orbita di Nettuno fino a quella di Mercurio gli astronomi hanno calcolato che perde almeno uno strato di 6 metri di roccia e ghiaccio ad ogni suo passaggio intorno al Sole ma che dovrebbe durare per almeno altri 10 milioni di anni quindi c'è ancora materiale infatti ha un diametro di circa 11 km qui vediamo una foto con la sua coda l'ultima volta che si avvicinano alla Terra proprio nel 1986 raggiunse una lunghezza di circa 100 milioni di km quindi queste cote possono essere molto lunghe e soprattutto per questo motivo anche molto ben visibili dalla Terra parliamo delle esocomete cosa sono? sono comete che orbitano attorno ad altre stelle e nonostante siano oggetti così piccoli sono già state scoperte infatti la prima fu scoperta addirittura nel 1987 ben prima della scoperta dei primi esopianeti quindi i pianeti che orbitano intorno ad altre stelle questa si trovava attorno alla stella Beta Pictoris a 60 anni luce da noi ed è stata scoperta utilizzando lo stesso metodo con il quale sono stati poi rilevati gli esopianeti ovvero quello del transito qui vediamo un'immagine in infrarosso del sistema Beta Pictoris si vede il disco protoplanetario che avvolge la stella la stella è stata oscurata in modo artificiale per poter osservare in dettaglio la luminosità del disco protoplanetario perché la stella ovviamente milioni di volte più luminosa e per poter vedere il disco doveva essere oscurata gli scienziati immaginano che il disco possa contenere le comete del sistema infatti questo disco ha la stessa struttura di quello osservato in altri sistemi e si trova alla giusta distanza per poter permettere la condensazione di oggetti composti da volatili il metodo della loro scoperta è simile a quello degli esopianeti si esamina la variazione di luminosità di un transito delle comete davanti alla stella e si può notare che il grafico di un esopianeta ha caratteristiche diverse da quelle generate da eso comete ma comunque entrambi permettono di poter riconoscere la natura dell'oggetto che sta transitando la stella di recente nuove osservazioni attorno alla stella hanno rilevato almeno 39 eso comete attorno alla stella pictoris e questo perché con le loro code creano un fenomeno di assorbimento diverso da quello degli esopianeti proprio per questo sono state osservate grandi variazioni di luminosità attorno alla stella tabby a 1480 anni luce da qui potrebbero essere spiegati come sciami di comete che ne bloccano la luce proprio le lunghe code di queste comete che sono appunto lunghe anche centinaia di milioni di chilometri possono generare una firma di assorbimento della luce stellare molto ben diversa e quindi molto ben riconoscibile da quella invece che genera un esopianeta quindi sono oggetti che si possono riconoscere quando attraversano la luce di una stella poi abbiamo quest'altra bellissima immagine queste sono le osservazioni in diverse lunghezze d'onda della stella Formalt che ha letteralmente un anello di ghiaccio e polvere che la circonda indicando l'ambiente di formazione delle comete quindi sicuramente all'interno di questo anello qui evidenziato in arancione abbiamo una popolazione di comete in formazione o già formata che orbita attorno alla stella quindi come vedete come le osservazioni di altre stelle di altri sistemi ci permettono di comprendere come possa essere fatto anche il nostro sistema osservato da fuori perché non è che il nostro sistema solare è speciale sicuramente sarà molto simile ai sistemi planetari che ci circondano quindi osservare queste strutture gigantesche che circondano le stelle intorno a noi ci permette di capire anche come potrebbe essere fatto l'ambiente intorno al nostro sole che noi da terra non riusciamo a vedere perché sono oggetti comunque troppo piccoli e la nube di Oort intorno al sole è troppo buia per essere osservata bene parliamo adesso delle proprietà delle comete la coda delle comete compare solo quando queste si avvicinano al sole almeno a 4 o 5 unità astronomiche del sole ma la loro caratteristica principale è una composizione molto simile a quella del mezzo interstellare qui vediamo una bellissima cometa con la sua coda che acquisisce questa bellissima curvatura e sicuramente è visibile da terra perché è lunga milioni di chilometri quindi vediamo in dettaglio com'è fatta una cometa l'anatomia di una cometa le comete si comportano in modo diverso in base alla loro posizione lungo la loro orbita lontane da sole sono fredde e inattive ma quando si avvicinano alla nostra stella cominciano ad evaporare e hanno una bellissima coda qui vediamo lo stato inattivo delle comete lontano da sole le comete sono corpi freddi e statici di ghiacci materiali organici silicatici e carbonaci quindi rocce e ghiaccio sporco con sostanze organiche questo materiale può essere anche più scuro dell'asfatto quindi riflettono molta poca luce e sono immerse nel buio che pervade le zone più esterne del sistema solare quando si avvicinano al sole cominciano a sublimare cioè i loro stati ghiacciati passano dallo stato solito a quello gassoso senza passare per la fase liquida creando una chioma intorno alla cometa questa chioma è una sorta di atmosfera temporanea che la cometa genera quando si avvicina al sole e gli stati più esterni vengono ionizzati dalla radiazione ultravioletta solare creando un plasma che genera un leggero campo magnetico questo campo magnetico impedisce al vento solare di toccare fisicamente la cometa e viene deviato lateralmente quindi qui si vede addirittura un fronte di onda d'urto dovuto all'interazione tra la chioma e il vento solare questa interazione genera la coda che nella parte più interna acquisisce una conformazione turbolenta abbiamo una scia turbolenta mentre la cometa prosegue lungo la sua orbita addirittura si differenziano due code infatti il vento solare ionizza i volatili spazzandoli via in una coda ionizzata nella direzione opposta rispetto al sole mentre le polveri che sono più pesanti e non vengono ionizzate rimangono lungo la traiettoria della cometa perché questa comunque prosegue la sua orbita intorno al sole e generano una coda separata da quella degli ioni spazzati via dal vento solare che acquisisce spesso una conformazione curva quindi abbiamo spesso due code una fatta di gas ionizzato spazzato via dal vento solare sempre in direzione opposta rispetto al sole e un'altra invece costituita da polveri che rimane lungo la traiettoria della cometa e che quindi acquisisce una conformazione curva e lo vediamo benissimo in questa spettacolare immagine quindi possiamo riassumere la vita di una cometa in questa immagine quando le comete si avvicinano al sole cominciano a evaporare generando la chioma questo nel nostro sistema solare con l'attuale radiazione solare avviene a circa 5 unità astronomiche da sole però ovviamente ogni stella e ogni sistema ha la sua distanza minima critica attorno alla quale le comete cominciano a passare dallo stato inattivo a quello attivo come già detto spesso si generano due code una di gas ionizzato che punta sempre in direzione opposta rispetto al sole perché è spazzata via dal vento solare e un'altra invece costituita da polveri più pesanti che non si fanno trascinare via dal vento solare che rimangono lungo la traiettoria dell'orbita della cometa e quindi spesso acquisiscono una conformazione più curva qui vediamo ancora un dettaglio di quello che conosciamo del comete a sinistra questa freccia raffigura la direzione del vento solare il nucleo cometario costituito da rocce e ghiaccio anche se gli studi delle emissioni più recenti hanno identificato una composizione chimica più dettagliata come diamante graffite carburo di silicio carburo di titanio nitruro di silicio corindone spinello chibonite ossido di titanio silicadi come olivine e pirosseno quindi abbiamo anche una componente minerale di costituenti non volatili più pesanti e poi abbiamo intorno una chioma che sarebbe di fatto questa atmosfera temporanea che si genera quando la cometa si avvicina troppo al sole la chioma è costituita da gas idrogeno quindi la componente volatile della cometa che evapora e che può essere largo fino a 3 milioni di chilometri calcolate che il sole è largo un milione e mezzo di chilometri quindi queste economie possono essere anche più grandi del sole però ovviamente sono molto meno dense sono più che altro molto luminose perché riflettono molto la luce del sole e quindi anche se la cometa dista molti milioni di anni luce della terra comunque appare molto ben visibile nel cielo la coda ionizzata è costruita da gas che vengono ionizzati letteralmente dalla radiazione ultravioletta del sole che è fortemente ionizzante e che quindi essendo ionizzate subiscono le interazioni del vento solare che le spazza via nella direzione opposta al sole mentre la coda di polvere costruita da materiali più pesanti che sono di fatto le componenti non volatili della cometa non vengono né ionizzati né spazzati via dal sole e rimangono lungo la traiettoria della cometa quindi lungo la sua orbita e spesso è proprio perché l'orbita è curva questa coda acquisisce una configurazione curva ben visibile quindi alla fine abbiamo quasi sempre la generazione di due code una costituita da gas ionizzato in direzione opposta rispetto al sole e una invece costituita da polveri e materiale un po più pesante invece che acquisisce una conformazione curva perché mantiene la la traiettoria della cometa in particolare quest'ultima coda è stata esaminata ed è costituita da particelle solide piccole quanto quelle del fumo di una sigaretta contenente acqua cianogeno e monossido di carbonio quindi così anche questa può contenere sostanze volatili e sono proprio i raggi ultravioletti del sole che ionizzano gli stati più esterni della chioma e questo gas ionizzato acquisisce la conformazione di un plasma quindi un gas ionizzato che avvolge la cometa generando un campo magnetico quindi anche le comete possono avere un loro campo magnetico le missioni spaziali che hanno studiato le comete hanno analizzato in dettaglio la chimica della loro composizione molte teorie prima di questi studi immaginavano che tutta l'acqua della terra vi fosse stata portata dalle comete principalmente durante l'evento dell'intenso bombardamento tardivo avvenuto circa 3,8 miliardi di anni fa però l'analisi isotopica dell'idrogeno e dell'ossigeno che costituisce il ghiaccio quindi l'acqua delle comete è diversa da quella che costituisce l'acqua dei nostri oceani quindi una cosa che è stata scoperta è che almeno non tutta l'acqua della terra è di origine cometaria ma ci deve essere anche un'altra origine che forse deriva appunto dall'origine del sistema solare infatti se raccogliamo tutta l'acqua della terra vedremo che questa va a costituire una sfera di circa 1000 km di diametro quindi in realtà anche se c'è molta acqua sulla terra comunque rappresenta una componente frazionaria del nostro mondo che per lo più è costituito da roccia e metallo e questo perché la terra si è formata in una zona del sistema solare povera di volatili perché la radiazione solare ha spazzato via i volatili quindi l'acqua che c'è sulla terra può essere arrivata in parte dopo la formazione del pianeta proprio appunto dalle comete e in parte deriva da altre fonti in particolare secondo alcuni scienziati l'acqua che oggi vediamo sulla terra deriva dai vulcani quindi dalla degassazione vulcanica della terra doveva essere quindi già presente all'interno del materiale che ha formato il pianeta e che poi durante la sua evoluzione geologica è stata liberata in parte sotto forma di eruzioni vulcaniche secondo alcune stime degli scienziati all'interno del pianeta dentro le rocce nel mantello c'è una quantità d'acqua che è pari a 10 volte quella che vediamo in superficie quindi in realtà la terra anche al suo interno è ricca di acqua e poi un'altra sorgente è quella cometaria perché sicuramente la terra ha subito moltissimi impatti lungo la sua storia e ogni impatto di questi enormi iceberg spaziali apportava acqua al pianeta però le analisi isotopiche degli ossigeni e dell'idrogeno che compongono i nostri oceani hanno proporzioni diverse da quelle che compongono i ghiacci delle comete questo conferma che le comete non sono l'unica sorgente d'acqua della terra l'ho già spiegato in una lezione precedente vi ricordo che la composizione isotopica di un dato materiale ci dice a quale distanza dal sole quel materiale si è formato perché la stratificazione della nube che ha formato il sistema solare si differenziava anche in base alla concentrazione isotopica dei vari elementi chimici inoltre un'altra cosa interessante è vedere le sostanze chimiche portate le comete e le possiamo vedere anche a occhio nudo quando questi oggetti piccoli attraversano atmosfera bruciando generano dei colori diversi e vediamo che se l'oggetto contiene azoteossigeno quando brucia genera una scia rossa se contiene ferro la scia è gialla se contiene calcio è viola sodio arancione e magnesio azzurrina quindi vedete come è possibile anche riconoscere la composizione chimica di questi oggetti semplicemente vedendo il colore della scia luminosa che lasciano quando bruciano attraverso la nostra atmosfera ovviamente parliamo di frammenti oggetti piccoli quindi anche dei resti lasciati dal passaggio delle comete e non da oggetti cometari grandi chilometri in quel caso si verificano eventi di estensione di massa andiamo avanti e vediamo adesso le dimensioni delle comete anche se nonostante messa a confronto con gli elementi della terra le comete sono oggetti molto grandi sono tra i corpi più piccoli del sistema solare si stima un diametro medio di pochi chilometri anche 11 o 12 chilometri però sono state osservate delle comete larghe anche fino a 60 chilometri però se immaginiamo che ci sono asteroidi come pallade 500 chilometri di diametro o come cerere che ne ha quasi 950 possiamo dire che le comete sono tra i corpi minori del sistema solare quelli più piccoli nonostante esistano casi particolari come la e il bop passata vicino alla terra nel 1997 io me la ricordo benissimo perché all'epoca avevo 17 anni e ho questo ricordo bellissimo delle vacanze di pasqua passate a tarquinia con questo cielo notturno molto buio che questa cometa che si vedeva a malapena ma molto grande che prendeva quasi mezzo cielo quindi era molto bello all'epoca non avevo gli strumenti per fare delle foto non ce le manca adesso però questa cometa aveva un diametro di 60 chilometri era un'eccezione perché normalmente le comete sembrano essere molto più piccole intorno ai 10 o 12 chilometri di diametro sono state scoperte anche comete ancora più piccole più piccole in particolare sono state scoperte con un diametro di 100 metri però se vogliamo fare una stima tra gli oggetti minori del sistema solare le comete sono i corpi più piccoli perché se consideriamo asteroidi come cerere o come pallade qui abbiamo diametri che vanno da 945 a 500 chilometri quindi sicuramente le comete sono gli oggetti minori più piccoli del sistema solare infatti se mettiamo a confronto le comete con gli oggetti della nostra vita quotidiana sulla terra vedete ecco qui un esempio questa è la cometa 67 p lunga circa 4 chilometri messa a confronto con gli edifici più grandi della terra dalle piramidi ghiza alla torre eiffel fino all'attuale grattacielo più alto del mondo i bugi carifa che si trova a dubai e alcune montagne più alte per esempio addirittura supera di poco il monte fuciamo a questo profilo qua il monte olympus in grecia e il monte vesuvio in italia quindi vedete che sono oggetti paragonabili con l'orografia terrestre ma non certo con oggetti più grandi la cometa più piccola mai osservata è stata scoperta dalla sonda so che come vedremo in questa lezione da quando è stata messa in orbita ha scoperto migliaia di comete e questa cometa sembra essere la più piccola osservata fino ad ora il suo nucleo ha infatti un diametro che varia tra i 100 e i 200 metri fino ad ora non è stato scoperto un oggetto ancora più piccolo probabilmente sotto questa dimensione le comete che passano vicino al sole tendono a evaporare e rimpicciolirsi sempre più quindi probabilmente sotto questa soglia poi le comete si sfaldano completamente a un solo passaggio ravvicinato intorno al sole per questo non ne vediamo di più piccole vediamo in dettaglio il nucleo delle comete composti da polvere roccia ghiaccio e materiali organici spesso hanno una colorazione scura addirittura più scura del catrame quindi riflettono pochissima luce e qui abbiamo un'immagine lontano dal sole le comete sono oggetti inattivi freddi e simili agli esteroidi con i quali rifriscono solo per la composizione chimica ma avvicinandosi al sole il calore fa sublimare le sostanze ghiacciate e il nucleo della cometa comincia ad attivarsi l'eruzione di getti di gas alimenta la grande nube appunto di gas che avvolge la cometa generando così la chioma e quando questo processo raggiunge la maturazione la coda interagisce con la radiazione solare e il moto della cometa generando lunghe code qui abbiamo già visto ma abbiamo in dettaglio il nucleo della cometa di ali larga 11 km con i suoi getti di gas sul lato illuminato dell'oggetto che generano la chioma intorno ad essa e il primo nucleo della cometa osservato da vicino è stato appunto quello di halle nel 1986 come già accennato la cometa di alle passò vicino alla terra e la nasa ne approfittò per mandare una sonda nei pressi della cometa per poterla studiare in dettaglio e a distanza ravvicinata e oggi abbiamo questo bellissimo video questa animazione che mostra l'avvicinamento della sonda verso la cometa ingrandendo sempre due d'immagine si può vedere il getto di gas che espellono materiale gassoso dal lato illuminato della cometa generando appunto la chioma qui c'è un dettaglio più ingrandito già visto nelle slide precedenti la sonda giotto che si avvicina alla cometa nel 1986 ci ha dato moltissime informazioni dal suo diametro di circa 11 km alla sua composizione chimica costituita in superficie principalmente da polvere roccia acqua monossido di carbonio quindi co e diossido di carbonio quindi co2 le particelle disperse nello spazio vengono diffuse dal sole formando una vasta chioma e una coda lunga circa 100 mila chilometri addirittura abbiamo una mappa della cometa di alle con questi dettagli tettonici e strutturali della superficie una volta lontana dal sole parte di quel materiale espulso sotto forma di chioma ricade sulla superficie grazie alla sua debole gravità gli scienziati stimano che la cometa perda uno stato di almeno 6 metri di spessore ad ogni passaggio intorno al sole ma questa secondo i calcoli potrebbe durare ancora per altri 10 milioni di anni questi resti che non ricadono sulla cometa ma che rimangono lungo il suo tragitto vanno ad alimentare le stelle cadenti che vediamo ogni anno cadere nelle notti terrestri quindi vanno a generare questo evento spettacolare che affascina molte persone la chioma è una vasta regione intorno alla cometa composta da polvere gas che si solleva da questa quando la cometa si avvicina ad almeno 500 milioni di chilometri dal sole che sono più o meno la distanza compresa tra le 3 e le 4 unità astronomiche quindi le 3 e le 4 volte la distanza che c'è tra la terra e il sole che vi ricordo è di 150 milioni di chilometri quindi è un fenomeno che avviene nel sistema solare interno come è fatto qui vediamo un'immagine si vede l'enorme chioma e questa parte più luminosa al centro essere la cometa come vedete è molto più grande della cometa e quando questa interagisce con il vento solare genera raggi x infatti le sostanze volate sono principalmente monossido e diossido di carbonio quindi co e co2 ammoniaca ed acqua che interagendo con il vento solare genera l'emissione di raggi x un fenomeno molto interessante per gli astronomi qui vediamo addirittura l'effetto dell'onda d'urto che c'è tra la chioma e il vento solare che ovviamente deriva dal sole nell'immagine il sole si trova a destra quindi vedete come l'onda d'urto è rivolta verso il sole perché è dovuta all'interazione proprio tra il vento solare e la chioma stessa questa interazione genera l'emissione raggi x cosa avviene in particolare i fotoni colpiscono gli atomi quindi c'ho due anidride carbonica e acqua h2o e questi fotoni vanno a ionizzare le molecole le molecole si ionizzano quando perdono elettroni le molecole ionizzate quindi perdono elettroni e questi elettroni persi vanno a colpire altre molecole rompendole del tutto quindi questo fenomeno di ionizzazione crea poi dei fenomeni a catena che vanno a rompere gli atomi e quindi a creare questa coda ionizzata di molecole ionizzate e per i propri atomi ionizzati che poi costituiranno la coda in questo caso gli atomi che vengono liberati sono carbonio ossigeno e idrogeno sono appunto i volatili ma nel caso di ammoniaca si libera anche azoto questi composti ionizzati vanno poi a costituire la coda la coda di una cometa si manifesta solo nel sistema solo all'interno nonostante le ridotte dimensioni del nucleo che abbiamo visto essere di pochi chilometri la coda può superare anche i 150 milioni di chilometri che è la distanza che c'è dalla terra soli quindi possono essere molto lunghe spesso le code delle comete possono essere due una di gas ionizzato che viene spazzata via dal vento solare e quindi è sempre in direzione opposta rispetto al sole e l'altra invece di polveri di quali essendo troppo pesanti per essere sospinti dal vento solare rimangono sulla tradizione della cometa acquistando una conformazione curva qui vediamo in questa bellissima immagine di il bop la cometa passata vicino a terra nel 1997 la coda di gas ionizzato e la coda di polveri il vento solare trasporta con sé il campo magnetico della nostra stella perché è appunto un gas ionizzato quindi quando il vento solare interagisce con la chioma cometaria abbiamo anche un'interazione con il campo magnetico che cosa succede abbiamo già visto che il vento solare costituito da protoni ovvero atomi di idrogeno che hanno perso l'elettrone a causa dell'alta temperatura che c'è sulla nostra stella colpiscono il gas della chioma della cometa questo viene ionizzato e troviamo gli elettroni provenienti da materiale cometario qui all'interno in rosso poi possiamo trovare gli ioni della chioma qui in fondo segnalato qui in blu e al centro ovviamente il nucleo della cometa che come potete vedere è molto piccola rispetto a tutta la struttura della chioma e della coda che la circondano quindi vedete com'è complessa l'interazione che c'è tra la chioma della cometa e il vento solare tutto viene complicato dal fatto che il vento solare essendo gas ionizzato trasporta con sé il campo magnetico del sole poi esistono delle vie di mezzo tra le comete e gli asteroidi che sono i centauri sono oggetti del sistema solare con caratteristiche comuni sia da steroidi a comete che hanno orbite stabili la cui loro origine è incerta ma gli scienziati ritengono che provengano dalla fascia di cui per vengono chiamati centauri in onore della mitologia greca per quegli esseri metà uomini e metà animali perché hanno una doppia natura metà comete e metà asteroidi addirittura alcuni sono stati fotografati con un anello questo è siron 2060 del diametro di 246 chilometri questo oggetto è stato classificato anche come pianeta nano con un anello perché lo vengono considerati completamente asteroide o completamente comete perché intanto hanno la composizione chimica di una cometa quindi sono costituiti prevalentemente da volateli ghiacciati e poi sono molto più grandi di una cometa mentre le comete hanno una dimensione media che va tra i 10 e massimo 20 chilometri la loro dimensione media è intorno 11 chilometri qui abbiamo oggetti che superano i 200 chilometri diametro e che possono avere anche una differenziazione strutturale e come abbiamo visto in questo caso vengono addirittura classificati quasi come dei pietinani i centauri hanno orbite instabili possono attraversare le orbite dei giganti cassosi oppure lo faranno in futuro da qui la supposizione che possono provenire dalla fascia di cui per quindi sono oggetti che sono influenzati moltissimo da i giganti cassosi del sistema solare esterno quindi vediamo alcuni con il loro diametro come vedete hanno diametri molto maggiori di una cometa per la maggior parte superano i 100 g di diametro il più piccolo sembra avere un diametro di 60 chilometri vi ricordo che 60 chilometri è il diametro della più grande cometa mai osservata fino adesso quella di il bop quindi sono molto grandi questi oggetti e poi hanno delle orbite compatibili con gli oggetti provenienti dalla fascia di cui per perché loro vite stanno al di sotto dei 200 anni quindi probabilmente la loro provenienza è proprio della fascia di oggetti ghiacciati che si sviluppa appena oltre l'orbita di nettuno vediamo qui schematizzata alcune loro orbite messa a confronto con quelle dei pianeti nani i pianeti nani qui li vediamo con le orbite in azzurro make make hawe ma eris plutone e in verde l'orbita di nettuno vediamo le loro orbite sono comprese tra quelle dei pianeti nani e quelle dei giganti gassosi quindi popolano più o meno la zona esterna del sistema solare quella dominata dai giganti gassosi ora vediamo come può finire la vita di una cometa le comete possono avere un diverso destino e alcuni di questi possono avere un finale molto spettacolare infatti le comete sono destinate a evaporare nel tempo ad ogni avvicinamento al sole a meno che non rimangono confinate in modo definitivo nelle zone più esterne del sistema solare potrebbero però anche perdersi nello spazio interstellare se le orbite sono molto aperte e questo lo vediamo perché ogni tanto gli astronomi vedono oggetti che potrebbero provenire anche da sistemi planetari vicini ma possono anche colpire i pianeti e sulla terra ha causato diverse estinzioni massa oppure cadere sul sole come è successo alla cometa haison che nel luna 13 è stata fotografata dalla sonda so in orbite intorno al sole mentre veniva distrutta dall'intenso calore della nostra stella per poter affrontare questo argomento cominciamo a classificare le orbite delle comete queste vanno da pochi anni fino a decine di migliaia di anni le orbite delle comete variano notevolmente ma si possono suddividere in due grandi gruppi in base alla loro durata a breve e a lungo periodo le orbite brevi hanno un periodo di vent'anni o anche meno ma per la maggior parte sono ellittiche e portano le comete a completare la loro orbita anche dopo secoli millenni in alcuni casi addirittura milioni di anni alcune hanno un'orbita iperbolica che le porta a passare vicino al sole una sola volta per poi disperdersi nella galassia quindi sono orbite aperte altre volte invece orbite così iperboliche possono poi correggersi e tornare indietro a causa di interazioni gravitazionali con gli altri pianeti e gli altri oggetti del sistema solare sono state osservate anche delle comete nella fascia degli asteroidi ma per alcuni scienziati potrebbero semplicemente essere gli asteroidi con una quantità di volatili maggiori del comune e che quindi in alcuni casi quando si avvicinano al sole si comportano come delle comette emettendo una chioma o qualcosa di simile a una coda però distinguiamo i due grandi gruppi quelle di breve periodo che hanno come origine la fascia di kuiper e quelle di lungo periodo che invece hanno come origine la nube di ort le prime in particolare sono per la maggior parte organizzate lungo il piano delle critiche dei pianeti anche se l'interazione con gli altri pianeti le può spostare al di fuori piani critica e come nel caso della halle avere un orbita che arriva fino a 90 gradi di creazione rispetto alle critica mentre quelle lungo periodo hanno un'inclinazione molto più variabile provengono da tutte le direzioni suggerendoci proprio che la nube di ort abbia una forma sferica intorno al sistema solare e cominciamo appunto da quelle di lungo periodo cioè quelle che hanno un periodo di orbita intorno al sole superiore 200 anni come già detto queste arrivano da tutte le direzioni e in alcuni casi il loro a felio può essere addirittura a un anno luce dal sole quindi possono avere periodo anche in alcuni casi di milioni di anni però per la maggior parte parliamo di millenni qui vediamo schematizzato il sistema solare all'interno della nube di ort che la circonda e la fascia di cui per che avvolge sistema solare però sviluppata lungo il piano delle critiche mentre la nuve di ort circonda tutto il sistema solare sono caratterizzati da orbite molto eccentriche addirittura l'eccentricità come già accennato può essere maggiore ad uno queste le fa diventare iperboliche ovvero orbite aperte che sono destinate a lasciare il sistema solare pare infatti ci sia uno scambio di comete tra i sistemi pretari vicini molte di queste comete possono tranquillamente disperdersi in uno spazio interstellare della galassia vediamo alcuni casi estremi abbiamo la c 1975 west che ha un periodo compreso tra i 256 mila e i 6,5 milioni di anni con la felio a 70 mila unità astronomiche e catalina c 1999 f 1 con un periodo di almeno 6 milioni di anni e una felio a 66 mila unità astronomiche vi ricordo che una unità astronomica e la distanza che c'è tra la terra e sole quindi questi oggetti arrivano a distanze che sono decine di migliaia di volte quella che c'è tra la terra e il sole quindi sono oggetti che arrivando a queste distanze sicuramente risentono della trazione gravitazionale di altre stelle per questo motivo gli scienziati pensano che ci sia uno scambio di comete tra i vari sistemi planetari e che molti di questi oggetti si disperdano nello spazio interstellare in modo definitivo vediamo nei altri in particolari abbiamo la c 2016 m1 chiamata anche pantastas con un orbita quasi perpendicolare a quella del piano dei pianeti del sistema solare ha un periodo stimato intorno agli 85 mila 500 anni con una felio c'è punto più lontano che può raggiungere che si trova circa 3878 unità astronomiche da sole poi ancora abbiamo la c 2017 t3 conosciuta anche col nome di atlas presenta un orbita meno perpendicolare e più circolare quindi a un periodo maggiore di circa 51 mila 600 anni con una felio più vicino a 2771 unità astronomiche normalmente se le comete hanno un orbita circolare il loro affeglio più vicino perché l'orbita è meno schiacciata poi abbiamo la c 1995 01 o meglio conosciuto come la e il bop che ho già citato in questa lezione io la vidi durante le vacanze di pasqua del 1997 a tarquinia però fu scoperta nel 1995 con un orbita quasi perpendicolare all'eclittica dei pianeti è passata vicino la terra nella seconda metà negli anni 90 appunto io l'ho vista nel 1197 impegna quasi 2500 anni a compiere un'orbita completa intorno al sole ed è stata molto luminosa e molto visibile da tutto il pianeta vi ricordo che ne parlarono tutti i telegiornali e fece molto notizia in tutta la comunità scientifica tanto addirittura da occupare anche le testate giornalistiche più generaliste visto queste passiamo adesso alle comete di breve periodo con un'orbita inferiore ai 200 anni queste giacciono per lo più sul piano sistema solare ma come vedremo non sempre e di loro a feli sono nella zona del sistema solare esterno popolata da giganti cassosi o al massimo nella fascia di cui per da cui si ritiene queste possano provenire qui vediamo l'orbita di una di queste comete addirittura questo ha un periodo molto breve di 6,8 anni e riesce a malapena a superare l'orbita di giove si chiama borelli ed è stata visitata dalla sonda deep space one nel 2001 con un periodo di 6,8 anni e raggiunto il suo ultimo periodo nel febbraio 2022 quello precedente era nel maggio 2015 quindi è possibile vederla più volte durante le nostre vite poi abbiamo la catarina mcnout già citata prima con questa bellissima coda curva questa cometa completa la sua orbita in 6,75 anni il suo perielio si trova appena al limite del sistema soli eterno nei pressi dell'orbita di marti quindi sono oggetti che si trovano nella zona più interna del sistema solare quindi possiamo distinguere queste comete di periodo breve in due sottofamiglie a loro volta abbiamo le comette di tipo gioviano cioè comette con periodi orbitali inferiore ai 20 anni perché l'orafelio si trova nei pressi dell'orbita di giove e quindi ovviamente subiscono l'influenza di questo gigante gassoso se ne conoscono almeno 550 esemplari e poi ci sono le comette tipo Halley che hanno un periodo che va dai 20 ai 200 anni e un'inclinazione che varia tra 0 e 90 gradi con l'eclittica dei pianeti del sistema solare se ne conoscono almeno 80 ho già detto prima che molte di queste comette sono sviluppate lungo l'eclittica dei pianeti però molti di loro possono anche abitare al di fuori dei pianeti perché nonostante provengano dalla fascia di Kuiper possono essere posizionate su orbite fuori dall'eclittica quindi perpendicolari ai pianeti a causa di interazioni gravitazionali con i giganti gassosi quindi anche se originalmente la loro orbita doveva essere stabilizzata lungo il piano dei pianeti poi i giganti gassosi li hanno posizionati su orbite al di fuori di esso vediamo come si comporta la coda delle comete durante il loro periodo ho già detto che per la maggior parte del periodo orbitale le comete sono in fase inattiva queste manifestano la loro attività appena entrano nel sistema solare interno più o meno tra le 4 e le 3 unità astronomiche che corrispondono più o meno a 500 milioni di chilometri queste generano da primo una chioma e poi una coda di particelle sempre più densa e luminosa qui vediamo uno schema che mostra i vari passaggi il nucleo si scalda e comincia a sublinare appena la cometa entra nel sistema solare interno la chioma già comincia a formarsi intorno alle 5 unità astronomiche però la coda vera e propria si forma intorno alle 3-4 unità astronomiche questa si divide in due code la prima coda costituita da gas ionizzato che viene spazzato via da vento solare e che quindi è sempre in direzione opposta rispetto al sole la seconda invece costruita da polvere più grande e pesante che non viene trascinata via dalla luce solare ma che risente del movimento della cometa quindi acquisisce una conformazione curva dovuta proprio alla traiettoria della cometa quindi abbiamo una coda dritta ionizzata e una coda di polveri curva ben distinte e ben visibili come già detto la coda ionizzata viene trascinata via dal vento solare e quindi ovviamente sempre in direzione opposta rispetto al sole mentre quella di polveri si incurva perché mantiene la traiettoria della cometa l'ho già detto una volta che la cometa si allontana dal sole superate le 5 unità astronomiche ecco che i materiali della chioma che non sono stati spazzati via ricadono sulla cometa a causa della sua debole gravità e la cometa torna ad essere inattiva per il resto del tempo che si troverà nella porzione sua orbita lontana dal sole tornerà a riattivarsi quando la sua orbita la riporterà vicino alla nostra stella come è fatta la polvere di una cometa l'analisi della polvere ci dà molte informazioni sulla storia del sistema solare infatti è costituita principalmente da materiale interstellare o i materiali di cui era composto la nube da queste formate sistema solare qui sotto vediamo il grafico della composizione della cometa 67 p l'accio io mob gerasimonco che è stata avvicinata e recente da una sonda della nasa in cui troviamo in ugual misura sia sostanze organiche che minerali in entrambi i casi gli atomi di idrogeno ossigeno e carbonio rappresentano circa il 90 per cento del totale infatti abbiamo un 55 per cento di materia organica e un 45 per cento di materia minerale in particolare la composizione chimica e questi due di qual misura 30 per cento idrogeno 30 per cento ossigeno e 30 per cento carbonio e poi abbiamo un 5,5 per cento di silicio un 4,5 per cento di ferro e poi il restante sono magnesio e altri minerali minori però per la maggior parte sono costituite da idrogeno carbonio e ossigeno che sono anche i costituenti principali della materia organica sono state scoperte infatti di recente anche sostanze organiche che costituiscono gli esseri viventi sulla terra il materiale che sulla terra costituisce aminoacidi acidi nucleici e lipidi sono stati trovati nella polvere delle comete proprio perché costituivano il materiale interstellare da cui poi si è formato il sistema solare le comete sono come una capsula del tempo che ci mostra come dove essere la composizione chimica della nube da cui si è formata la terra il sole e tutti gli altri pianeti del sistema solare quindi questo è molto importante per gli scienziati alcune comette hanno un'orbita che le porta molto vicino al sole e queste vengono definite comete radenti al sole e proprio questa caratteristica le rende molto luminosa perché essendo molto vicino al sole riflettono molta più luce possono però non sopravvivere al periello con la nostra stella e venire frantumate delle fosse di marea o addirittura essere completamente vaporizzate dall'intenso calore solare qui vediamo alcune comete questa è la cometa c 2011 v3 chiamata anche love joy che nel 2011 ha subito un avvicinamento molto radente al sole però riuscì a sopravvivere nonostante superiore si trovasse a solo 140 mila chilometri dalla superficie nostra stella quindi addirittura più di un milione di volte più vicino al sole di quanto non sia la terra alcuni di questi oggetti sono stati osservati e hanno visto in particolare molte comete letteralmente tuffarsi nel sole o semplicemente non sopravvivere al passaggio vicino alla nostra stella in particolare la sonda so che tuttora è nobita intorno al sole ha documentato momento per momento la fine della cometa ison che nel 2013 si è avvicinata talmente tanto al sole da venire completamente distrutta e qui vediamo una fotosequenza di questo evento questa cometa fu annunciata come un evento spettacolare perché passando molto vicino al sole ci si aspettava che dovesse riflettere molta luce però qui come vedete la cometa non è sopravvissuta al periello con la stella e dopo il passaggio si vede come si sia frantumata e poi si sia totalmente distrutta queste sono fotosequenze che mostrano le varie fasi della distruzione della cometa che poi è totalmente vaporizzata quindi fu totalmente documentata la sua fine e qui vediamo addirittura un'animazione prima e dopo vedete come si è consumata dopo il suo passaggio questa cometa fu scoperta nel 12 da due astronomi uno russo e uno bielorusso e nel 2013 venne documentata dalla so la sua distruzione è molto interessante questo perché prima della messa in orbita dell'osservatorio spaziale solare so erano poche le comete osservate mentre facevano questa fine l'osservatorio so che è stato progettato solamente per studiare la corona solare ne ha documentate a migliaia di comete che fanno questa fine quindi è un fenomeno molto comune alcune comete perse nel tempo poi sono state riosservate ad esempio la cometa oms scoperta nel 1892 aveva un periodo orbitale di 6,8 anni fu osservata nel 1906 e poi se ne persero le tracce per oltre 16 anni nel 2007 è stata riosservata in modo spettacolare grazie a una chioma molto minosa che raggiunse a un diametro superiore a quello del sole oggi ha detto che queste chiome possono espandersi moltissimo nello spazio e superare il milione di chilometri di diametro poi abbiamo la 15 p finali osservata per la prima volta nel 1886 con un periodo orbitale di 6,5 anni la sua orbita venne modificata da giove nei decenni successivi e oggi è osservata regolarmente dal 1953 poi abbiamo il caso della 34 di gale scoperta nel 1927 a un'orbita con un periodo di circa 11 anni non è stata mai più ridata dopo il 1947 forse si è distrutta ma nessuno ha documentato questo evento poi ancora abbiamo la 3d biella osservata per la prima volta nel 1772 e qui vediamo una raffigurazione dell'epoca è stata considerata una cometa di breve periodo nel 1826 è stata documentata come la cometa che si divise in due quindi probabilmente fu la prima documentazione scientifica e storica della frammentazione di una cometa e poi non fu più osservata dal 1852 probabilmente si è distrutta quindi vedete come sono breve l'esistenza di queste comete sono tantissime che passano vicino la terra e tantissime vengono distrutte molto frequentemente quindi se ancora oggi dopo miliardi di anni abbiamo tutte queste comete è perché il serbatoio da cui provengono la fascia di cui per il nome di orte ne sono veramente molto ricche poi ancora abbiamo questa tra la 73 p su wasman watchman 3 osservata nel 1930 persa ma poi riscoperta si ruppe 66 frammenti in fase di degradazione e presto non sarà più visibile quindi anche prima dell'osservatorio spaziale so sono state osservate delle comete che si sono frantumate si sono distrutte ma ovviamente so ce ne ha documentate molte di più e poi abbiamo la c 2012 f6 conosciuta anche come la cometa lemon cometa di lungo periodo circa 8 mila anni è stata scoperta nel 2012 ed era in avvicinamento al sole sembrava che fosse stata distrutta dal sole ma fu poi invece riosservata al filo stesso anno quindi questa cometa sopravvisse al passaggio intorno al sole se le comete non evaporano o non vengono distrutte al sole potrebbero anche colpire i pianeti infatti impatti cometari sono un fenomeno costante nel sistema solare e nel 1994 l'umanità ha potuto osservare in diretta questo evento la cometa sure maker levi 9 scoperta pochi anni prima si ruppe in 21 frammenti e questi frammenti caddero uno dopo l'altro su giove fu giove stesso a rompere la cometa in 21 frammenti in un passaggio precedente poi quando questa è tornata già frantumata ha colpito il pianeta come una mitragliatrice uno dopo l'altro e qui si vede un'immagine di questo evento queste palle di fuoco risultavano essere grandi quanto la terra stessa perché giove ricordo è molto più grande della terra se questo evento fosse avvenuto sulla terra oggi non saremmo qui e visto che giove ruota molto rapidamente ci mette circa nove ore e mezza a fare un genuto intorno a se stesso i vari impatti che si sono seguiti l'uno dall'altro dopo diverse ore hanno formato questa serie di eventi queste nubi scure vi ricordo che giove è un ciccante gassoso quindi non ci sono stati dei crateri le comete sono affondate nell'atmosfera gassosa si vede la reazione degli astronomi mentre arrivarono queste immagini a terra dove si vedono benissimo le varie cicatrici nelle nebulose di giove queste nubi nere si sono formate durante gli impatti e ovviamente la rotazione di giove poi le ha mostrate una dopo l'altra piano piano alla terra giove ha avuto un ruolo molto importante per la terra perché proprio come avevo visto nel 1994 ha assorbito molte comete quindi le ha tolte dal sistema solare ma non tutte e qualcuna riesce a colpire anche la terra la storia terrestre è piena di impatti e l'ultimo che ha segnato la storia della vita sulla terra è l'evento kt a cui ho dedicato un'intraelezione la numero 11 di questo corso l'evento kt è l'evento che mise fine a cretaceo e pose l'inizio del terziario fu un evento causato da un impatto di un asteroide largo almeno 11 km in questo caso era un asteroide perché sappiamo dalla composizione chimica dell'irridio che l'oggetto era più un asteroide che una cometa che ha messo fine all'era dei dinosauri qui vediamo un grafico che mostra i picchi di estinzione che sono stati disegnati lungo la storia della terra e in particolare le cinque grandi estensioni che hanno colpito il pianeta nell'ultimo mezzo miliardo di anni l'evento kt è l'ultimo avvenuto circa 66 milioni di anni fa ma ce ne sono stati altri addirittura andando a studiare questo grafico si vede che c'è un picco di emissioni ogni 26 27 milioni di anni e alcune teorie dicono che questo picco di estensioni così ciclico potrebbe essere causato da cause astronomiche in cui il sistema solare subisce un'intensa invasione di oggetti minori che possono essere comete o asteroidi probabilmente provenienti dal sistema solo esterno perché è un ciclo compatibile con orbite di oggetti che si trovano nella nube di ort anche di recente sembra esserci stato un impatto con una cometa nel 1908 un evento di impatto ha colpito la taica selvaggia in siberia per fortuna era un ambiente totalmente disabitato da esseri umani quindi non ci sono stati grandi catastrofi però fosse venuto qualche ora prima avrebbe colpito il nord europa e probabilmente anche cambiato la storia un'aria enorme fu sconvolta e devastata da questo impatto però non è stato mai trovato nessun oggetto in superficie nemmeno un cratere l'oggetto grande quanto un autobus sarebbe esploso ad alta quota il fatto stesso che non si trovano il corpo di questo asteroide fa supporre agli scienziati che possa essere un oggetto di poco metario c'è un oggetto costruito da volatili che una volta esploso si sono evaporati in atmosfera quindi acqua ammoniaca ghiacci di azoto e non rocce metalli di cui sono costituiti gli asteroidi quindi questo evento probabilmente deve essere stato l'impatto di un oggetto cometario grande più o meno quanto un autobus esploso ad alta quota che ha generato una potente onda d'urto qui vediamo delle foto di una missione esplorativa svuotasi alcuni decenni dopo che mostravano i resti degli alberi buttati a terra dall'esplosione e si trovavano alberi disposti in questo modo per migliaia di chilometri quadrati quindi un'aria molto grande passiamo ora all'ultima parte di questa lezione quella dedicata all'osservazione e studio delle comete fin dall'antichità le comete sono sempre state osservate perché ritenute portatori di buoni o pessimi presaggi venivano considerati dei messaggeri divini perché erano qualcosa che irrompeva nel cielo e spesso erano dei fenomeni che una persona osservava una sola volta nella loro vita quindi diventi unici che rompevano degli schemi conosciuti i normali ciclici arresti e quindi si dava un'importanza diversa rispetto agli altri asti oggi sappiamo che le cose sono molto diverse addirittura sono state fatte atterrare delle sonde sopra di esse e abbiamo studi dettagliati sulla loro chimica e la loro struttura fisica interna però hanno avuto un ruolo molto importante nella storia e infatti vediamo che queste per millenni sono state osservate da tutte le civiltà umane a tutte le latitudini e ovviamente hanno lasciato delle testimonianze in molti modi sia sotto forma di monete qui vediamo una moneta del 44 avanti cristo dove l'imperatore romano augusto l'ha fatta coniare con l'immagine di una cometa nel retro in realtà è stata fatta coniare negli anni 19 e 18 avanti cristo però vanno a ricordare un evento del 44 avanti cristo che proprio il passaggio della cometa la quale fu interpretata dai romani come segno della divinazione di cesare quindi vedete come a questi franni celesti sono poi attribuiti dei significati nella vita comune delle persone poi ancora nel 239 avanti cristo la prima osservazione documentata della cometa di hallei fu raffigurata da un dipinto di giotto del 1305 e quindi alcune testimonianze del 239 hanno poi convinto giotto nel 1305 raffigurare questa cometa secondo gli studiosi queste testimonianze proprio si riferivano alla cometa di hallei e giotto la raffigura come messaggio divino per guidare i tre magi verso la natalità di gesù però poi in realtà secondo alcuni studiosi la stella che vi dò immagini non era una cometa ma una supernova che rimase accesa per molti giorni e fu addirittura visibile durante le ore diurne però nella leggenda è rimasta l'idea della cometa infatti ancora oggi nei presepi viene messa una cometa sopra la grotta ma fu una supernova andiamo avanti e vediamo poi nel 1680 la prima cometa osservata a telescopio era radente al sole quindi molto luminosa fu immortalata nel dipinto dell'olandese lieve per scioglie sul cielo di amsterdam poi nel 1744 fu visibile per diversi mesi una grande cometa che rimase particolarmente famosa perché mostrava addirittura sei code dopo il passaggio al suo perielo probabilmente la gravità solare la frantumò in più pezzi e questi pezzi generavano più code però ovviamente all'epoca non si poteva sapere il fatto che fu così radente al sole la rese comunque molto luminosa ancora abbiamo nel 1843 un'altra grande cometa visibile in modo spettacolare dall'emisfero sud del pianeta e si poteva osservare anche in piano giorno quindi anche questo permette una cometa radente al sole perché appunto molto luminosa in questa immagine è stata raffigurata mentre passava sopra il cielo della tasmania vicino all'australia poi nel 1858 l'astronomo italiano scopre la cometa più brillante del 19 secolo ed è stata la prima ad essere fotografata ma in questa raffigurazione è stata raffigurata con due code di gas e una di polvere lo sappiamo perché quelle di gas sono rettilinee opposti rispetto al sole e quella di polvere invece curva come ho già spiegato quindi anche qui da queste raffigurazioni artistiche possiamo ottenere molte informazioni che oggi riusciamo a comprendere meglio poi ancora nel 1882 appare una cometa radente al sole tanto luminosa che fu visibile anche di giorno si pensa abbia raggiunto la distanza minima dal sole di almeno 480 mila chilometri per poter raggiungere una luminosità così elevata nel 1910 apparve la cometa più brillante del ventesimo secolo ovviamente era appena cominciato il ventesimo secolo quindi per l'ora la chiamarono così e a suo perielio fu visibile anche di giorno nel 1927 compare la cometa schiele rap maristani visibile per più di un mese anche di giorno poi abbiamo nel 1957 un'altra cometa iperbolica molto luminosa quindi probabilmente questa cometa non ripasserà più perché si trova su una tradittoria che la porterà al di fuori del sistema solare e poi nel 1965 la cometa ikea secchi di lungo periodo molto radente al sole divenne molto luminosa e visibile persino in pieno giorno qui vediamo una fotografia nel 1975 abbiamo la cometa del west tra le più brillanti degli ultimi decenni visibile anche in pieno giorno poi arriviamo negli anni 80 e nel 1986 la cometa di Halley torna ad attraversare il sistema solare interno fu la prima cometa avvicinata da una sonda terrestre la Giotto che ne fotografò in nucleo quindi fu la prima volta che l'umanità poter vedere da vicino come è fatta veramente una cometa e questo ebbe una capacità mediatica enorme tornerà intorno alla terra negli anni 70 del ventunesimo secolo nel 1996 la cometa yakutake compare con una delle code più lunghe che si siano mai viste almeno 500 milioni di chilometri vi ricordo che la distanza tra terra e sole è di 150 milioni di chilometri quindi è almeno tre o quattro volte più lunga la distanza che c'è tra terra e sole nel 1997 eccola la cometa e il bop famosa per le sue due code ben visibili persino occhio nudo e durò per ben 18 mesi vi ho già detto che io la vedi molto bene durante le vacanze di pasqua del 97 nei cieli notturni di tarquinia nel 2007 ecco una cometa visibile anche di giorno la c 2006 p che passò vicino alla terra ma non era periodica durante il suo punto di perielio era possibile anche questa vederla di giorno però nella stampa normale non fece gran notizia nel 2011 la cometa c 2011 w3 apparve vicino alla terra era una cometa di lungo periodo radente al sole luminosa quanto venere ma poco visibile perché troppo vicino al sole quindi anche questa non ebbe un grande risalto mediatico però qui ne vediamo una foto scattata fuori dall'atmosfera terrestre probabilmente dalla stazione spaziale si vede benissimo la sua coda e qui si vede il profilo dell'atmosfera terrestre quindi vedete che le comete sono fenomeni molto comuni nella storia avvengono in continuazione tutti i secoli tutti i decenni e ovviamente poi tutte le città del mondo le hanno osservate e le hanno interpretate a modo loro le comete sono osservabili quando si avvicinano nel sistema sole interno ma alcune si avvicinano anche molto anche la terra ci passa uno vicino questo ci permette di poterle osservare in modo dettagliato non tutte queste comete raggiungono chissà quale luminosità come già detto quelle più luminose sono molto vicine e radenti al sole però queste comete possono passarci vicino e dare un'occasione agli astronomi e alle agenzie spaziali di poterle esplorare e questo fu il caso della Halley nel 1986 quando la sonda Giotto poteva avvicinarsi così tanto da fare questa foto spettacolare del nucleo in ravvicinamento dove si vede la parte illuminata da sole con i suoi getti di gas che vanno ad alimentare la chioma e quindi poi anche la coda però da quando l'uomo ha cominciato a riempire lo spazio di osservatori spaziali ecco che aumentano le osservazioni delle comete dello spazio l'osservatorio spaziale SOHO è uno strumento studiato per osservare la corona solare però un effetto collaterale del suo punto di osservazione è stato quello di osservare migliaia di comete che si avvicinano al sole e qui vediamo ad esempio questa immagine bellissima dove ovviamente il sole è stato oscurato con un filtro per impedire che lo strumento venga accecato dalla sua eccessiva luminosità qui si vede il disco del sole evidenziato dietro questo disco oscurato e si vede una foto della cometa in avvicinamento al sole la telecamera LASCO specializzata per osservare la corona solare ha avuto come effetto collaterale proprio quello di osservare questi oggetti cometari e qui vediamo altre comete che sono in avvicinamento al sole la natura dello strumento che era stato studiato per osservare la prossimità del sole quindi la sua corona ci permette anche di osservare gli oggetti in avvicinamento che la attraversano come appunto le comete e ha osservato migliaia di comete prima di questo osservatorio le comete osservate nello spazio dagli strumenti umani si contavano sulle punte delle dita oggi sono decine di migliaia ed è un fenomeno costante e continuo addirittura ha osservato la distruzione delle comete nel 2011 l'osservatorio SO ha osservato una cometa che è riuscita a malapena a superare il suo perielio al sole qui si vede la cometa che supera il suo perielio questa è la cometa C2011W3 e si vede che l'ha superata in una maniera abbastanza devastante però ce l'ha fatta non tutte le comete ce la fanno a volte riesce a osservare le comete che letteralmente cadono nel sole addirittura altre volte ancora comete che invece evaporano completamente durante il loro passaggio vi ricordo che le comete sono per lo più oggetti ghiacciati quindi un eccessivo vaccinamento al sole potrebbe distruggere a livello definitivo dopo le osservazioni abbiamo le missioni vere e proprie la missione Deep Impact prevedeva una sonda che volontariamente è stata lanciata addosso a una cometa per poter studiare il materiale sollevato dall'impatto e quindi capire di cosa fossero fatte le comete è stata lanciata nel 2005 il suo obiettivo era quello di analizzare la composizione chimica della cometa P9 Temple 1 alla fine della missione, dopo i suoi studi, una piccola sonda si sganciò da quella principale e venne fatta schiantare sulla sua superficie per studiare la composizione chimica del materiale sollevato dall'impatto questo oggetto lanciato verso la cometa aveva le dimensioni di una lavatrice e una massa di circa 10 kg non è stata la prima sonda ad avvicinarsi ad atterrare sulla cometa ci furono altri casi nel 2001 ma fu la prima che si fece volutamente schiantare sulla superficie di una cometa per vedere di cosa fosse fatta e qui vediamo il momento dell'impatto che ha generato questa grande luminosità il materiale sollevato è stato poi studiato da spettrometri sia dalla sonda rimasta in orbita che poi anche da terra qui vediamo un'animazione dell'impatto l'impatto è avvenuto il 4 luglio del 2005 con un oggetto di circa 10 kg di massa e una velocità di 12.2 km al secondo la collisione ha liberato l'equivalente di 5 tonnellate di dinamite ed ha creato un cratere profondo circa 30 metri aumentando la luminosità della cometa di circa 6 volte poi vedremo che questa cometa è stata riavvicinata da un'altra sonda e questo cratere artificiale fu addirittura fotografato di nuovo poi abbiamo la missione Stardust che è una sonda che è stata indirizzata verso la cometa Wild 2 che ne studiò la chioma e i nuclei infatti si tuffò dentro la coda e con uno speciale strumento ha prelevato dei campioni di questa polvere cosmica facendo interessanti scoperte questa sonda è stata lanciata nel 1999 raggiunse la sua prima destinazione nel 2 a 2 l'asteroide 5535 Hanne Frank nella fascia di asteroidi su cui vengono fatti alcuni test per poi testare i suoi strumenti nel 2004 raggiunse il suo obiettivo fu posizionata davanti alla cometa e fu fatta avanzare per poter raccogliere i materiali della chioma e della coda quindi si avvicinò nei momenti in cui la cometa era attiva qui vediamo alcune immagini abbiamo l'immagine del primo asteroide Hanne Frank dove furono testati gli strumenti la cometa Wild 2 da cui raccolse i campioni della coda e della chioma e poi passò davanti alla cometa Temple 1 dove alcuni anni prima fu fatto impattare la sonda della missione Deep Impact e questa missione riuscì a fotografare il cratere artificiale generato dalla missione precedente infatti qui vediamo l'immagine della cometa Temple 1 dalla sonda Stardust questa era la foto della Deep Impact e questa è la foto della Stardust la cometa è la stessa e qui si riconoscono due elementi della superficie della cometa poi i campioni una volta raccolti dalla chioma vengono lanciati con uno speciale modulo verso la Terra e raccolti poi una volta a Terra cosa abbiamo ottenuto da questi campioni? la composizione chimica delle comete e la conferma del loro contenuto di materia organica quindi molto importante per gli studi sulla formazione del sistema solare perché vi ricordo le comete hanno una composizione molto simile al mezzo intestellare da cui poi si è condensato il sistema solare un'altra cosa interessante è che questa sonda, la Stardust, ha creato una mappa della cometa Wild 2 e qui vediamo alcuni elementi strutturali evidenziati da questo schema riferita alla fotografia qui accanto hanno dato anche dei nomi alle singole formazioni strutturali della cometa poi infine abbiamo la missione Rosetta la sonda Rosetta con il suo modulo progettato per atterrare chiamato File ha esplorato e studiato la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko è stata una missione della NASA che ha fornito molte immagini il modulo File è stato progettato per atterrare sulla cometa però ha avuto un incidente è rimbalzato sulla superficie a causa della bassissima gravità della cometa ed è finito sotto una scogliera in una zona della cometa mai illuminata dal sole questo ha impedito ai suoi pannelli fotovoltaici di potersi ricaricare quindi ha potuto lavorare solamente per 60 ore fino a quando le batterie si sono scaricate e lì ha finito di lavorare purtroppo è andata così se si fosse posizionato in una zona più illuminata dal sole probabilmente avrebbe potuto lavorare per molto più tempo e ci avrebbe dato molte più informazioni però a parte questo è successo poi la missione ha dato molti frutti infatti è stata la prima sonda a orbitare in modo stabile attorno a una cometa è stata lanciata nel 2004 ma ha raggiunto la cometa solamente nel 2014 dieci anni dopo fu la prima sonda ad orbitare attorno a una cometa in modo stabile quindi questa cometa è stata studiata a fondo grazie a questa orbita stabile attorno ad essa qui vediamo il percorso che ha fatto questa sonda per raggiungere la cometa ha utilizzato la gravità degli altri pianeti del sistema solare come fionda gravitazionale per raggiungerla e poi purtroppo il quasi successo dell'underfile che sfortuna ha voluto sia rimbalzato in una zona buia della cometa e quindi i suoi pannelli fotovoltaici non hanno potuto ricaricare la sonda e questo gli ha permesso un'autonomia di sole 60 ore in quelle 60 ore abbiamo tutti i dati che quella sonda è riuscita a raccogliere che cosa ha scoperto la missione Rosetta quali sono state le informazioni così utili ottenute da questa missione così avveneristica beh intanto il campo magnetico la sonda ha seguito la cometa per almeno due anni e in questo periodo ha potuto osservare e mappare il campo magnetico generato dall'interazione del vento solare con la chioma della cometa il gas della chioma della cometa viene ionizzato dal vento solare e questo plasma genera un campo magnetico inoltre ha studiato anche la composizione chimica della cometa e ha trovato molte sostanze organiche le stesse che sulla Terra costituiscono gli esseri venti ha trovato acidi nucleici, amminoacidi e grandi quantità di ossigeno quindi vedete che le informazioni ottenute da queste missioni sono enormi perché ci dicono esattamente come era la nebulosa da cui poi si è condensato il sistema solare e da cui possiamo anche capire come si potrebbero formare i pianeti e quindi anche la vita attorno ad altre stelle perché lo studio di questa sonda ci ha confermato che la composizione chimica delle nebulose da cui si formano il sistema solare è ricca di elementi e di molecole che poi sulla Terra costituiscono gli esseri venti quindi veramente una scoperta molto interessante detto questo ho finito anche questa lezione e nella prossima lezione parlerò degli impatti nel sistema solare queste comete ma non solo anche gli asteroidi hanno avuto un ruolo e hanno ancora oggi un ruolo molto importante nell'evoluzione dei pianeti del sistema solare e anche della vita stessa sulla Terra e non solo e quindi affronteremo questo argomento nella prossima lezione potete trovare questa e tutte le lezioni del mio corso di astronomia sul mio canale youtube e sulle mie pagine social instagram e facebook prof. Antonio Loiacono grazie 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 grazie